A poco più di un anno dalla sua morte, la città di Squillace ricorda un importante membro della propria comunità, il maestro Paolo Pancari Doria, artista intellettuale, studioso, pilastro dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, attraverso la presentazione di un volume scritto da Daniele Cristoforo. A fare da cornice all'evento il castello normano di Squillace, dove un numeroso pubblico ha potuto godere di un momento indimenticabile di poesie e di bellezza, dove l'arte, l'amicizia, i ricordi, i sogni, le commozioni, la straordinaria empatia e le suggestioni rimarranno sempre nel cuore. Il volume, con una pregiata veste editoriale, ripercorre le tappe della vita artistica del pittore Paolo Pancari Doria, nato a Catanzaro nel 1950 e docente della prima cattedra di decorazione presso l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. L'autore, legato all'artista da profonda amicizia, con questo lavoro ha voluto raccontare Pancari, la sua arte, la sua vita, i suoi sogni, i suoi racconti, attraverso una serie di opere che in linea di massima tracciano le linee guida della sua prolifica e eterogenea produzione artistica. Era eclettico, sorprendente e molto creativo, dedito alla ricerca e alla sperimentazione, in cui il tema dominante rimaneva il conflitto esistenziale. La sua attività artistica si concentrava tra Catanzaro e Squillace, perché Pancari non ebbe mai il coraggio di abbandonare la terra nativa, alla quale rimase sempre legato. Qui lavorava e operava, difendendola con caparbietà nella consapevolezza che la Calabria, lasciata ai margini da ogni processo produttivo, potesse avere un suo momento di riscatto artistico e culturale al passo con il resto del mondo. La serata è stata elettata dal trio musicale composto da Giovanni Spadaro, Tony Samà e Domenico Vitaliano, che ha contribuito a creare un'atmosfera di magia e sogno. La lettura di alcuni brani di Paolo Pancari è stata affidata alla voce di Massimo Perlongo.